Il grado di civiltà di una nazione si misura dallo stato delle carceri, lo sosteneva Volterre ed è una giusta visione che la dice lunga sul livello culturale e intellettuale del rispetto dei diritti dell'uomo in Italia. Quello delle carceri, lager, è un problema che fa finire la nazione sotto la lente della Commissione europea, soprattutto per sovraffollamento e numero di suicidi. Noi siamo tra le ultime nazioni al mondo per maltrattamenti e condizioni disumane nelle carceri italiane. I radicali, come l'associazione Nessuno Tocchi Caino, che da oltre 20 anni si batte per i diritti umani nel mondo, portiamo avanti questa battaglia per il sovraffollamento delle carceri e le disumane condizioni carcerarie che i detenuti debbono sopportare. Nonostante che debbono scontare la loro pena, ci lasciano anche la loro vita. Dovremmo ringraziare la polizia penitenziaria, come quella di Taranto che pochi giorni fa ha salvato un detenuto che si stava impiccando con un giubbotto. Ecco le proposte dell'associazione Nessuno Tocchi Caino e dei radicali. Per Taranto quali sono i numeri e quali sono le condizioni? I numeri sono che sono 700 i detenuti, la capiezza doveva essere di circa 300-350, immaginate voi in una stanza di 2 metri per 3 metri, al massimo 2 per 4, saranno 6-7 metri quadrati, ci saranno 3 detenuti, 4 detenuti. Per cui noi chiediamo che danni, l'amnistia e l'indulto, date gli arresti domiciliari dove c'è il sovraffollamento e per i piccoli reati. L'associazione ricorda inoltre la possibilità per i familiari dei detenuti di fare ricorso al Tribunale dei diritti umani di Strasburgo, denunciando le condizioni di vita in carcere. È possibile scaricare il modulo mostrato da De Matteis direttamente dal sito radicali.it